come sapete io sono di roma però avendo avuto mamma milanese mi permetto di fare un appello a tutti i miei concittadini meneghini cioè mi raccomando datevi da fare per questa realtà che sta per arrivare perché secondo me spacca il culo è da paura ed è uno spazio insomma che tornerà all'arte di questi tempi ce n'è davvero bisogno potrebbe essere la nostra e vostra ancora di salvezza per cui aspettate che vengo pure io appena posso viva macau come cantava nilo macau meravigliau